Nell'epoca del software defined everything, anche le infrastrutture di storage perdono, almeno sul piano funzionale, la loro fisicità. Quali sono per l'azienda i reali vantaggi della virtualizzazione delle risorse di archiviazione? Non sono vantaggi riservati alle infrastrutture di grandi dimensioni? L'introduzione di un layer software nella gestione di infrastruttura storage porta a una semplificazione, la semplificazione della gestione di queste risorse. A poter accedere attraverso un layer logico piuttosto che fisico garantisce una semplificazione della complessità. E non solo, ma avere una visione logica ti porta ad avere un'indipendenza dall'hardware. Questi due elementi, semplificazione e indipendenza dall'hardware, sono benefici che sono indipendenti dalla dimensione dell'azienda. Qual è l'offerta di IBM in questo comparto, sia sul piano dei prodotti e soluzioni, sia su quello determinante dei servizi di consulenza e progetto? L'offerta software storage IBM si chiama Spectrum Family, una famiglia di prodotti modulare costruita su Open Standard ed è una famiglia già provata dai nostri clienti. Quindi sono elementi basici della nostra offerta. Un'offerta che può essere basicata attraverso il nostro canale con e corredata di servizi per completare l'intero progetto. Questo non vuol dire che tutto il nostro portafoglio ora è possibile fruirlo solo in modalità software. IBM basa la propria offerta su tre modalità di acquisizione, come appliance, quindi hardware più software, come software o in modalità cloud. Questa è la nostra strategia, portare l'intero portafoglio fruibile nella modalità che il cliente ritiene più consona delle sue esigenze. A supporto di questa trasformazione del portafoglio IBM ha messo 2 billion di investimenti sulla parte software defined e sulla parte flash, che sono gli elementi fondanti della strategia IBM.